La società moderna L'auto riveste un ruolo di fondamentale importanza per il benessere individuale e per lo sviluppo economico. Mai come oggi, la sicurezza in auto diventa un requisito indispensabile per il guidatore e per i passeggeri. L'incredibile aumento degli incidenti stradali con il conseguente incremento del numero di vittime non può e non deve essere considerato un semplice dato statistico. Nei suscitare sentimenti di rassegnazione sulla fatalità degli eventi richiede al contrario interventi decisi e concreti. L'incredibile aumento degli incidenti stradali con il numero di vittime L'incredibile aumento degli incidenti stradali con il numero di vittime L'incredibile aumento degli incidenti stradali con il numero di vittime L'incredibile aumento degli incidenti stradali con il numero di vittime L'incredibile aumento degli incidenti stradali con il numero di vittime L'incredibile aumento degli incidenti stradali con il numero di vittime L'incredibile aumento degli incidenti stradali con il numero di vittime calls for decisive e concrete action. Infodrive fills the existing gaps in the area of accident prevention and instant danger warning. Its installation and functioning are of the utmost simplicity. L'incredibile aumento degli incidenti stradali con il numero di vittime L'incredibile aumento degli incidenti stradali con il numero di vittime L'incredibile aumento degli incidenti stradali con il numero di vittime L'incredibile aumento degli incidenti stradali con il numero di vittime L'incredibile aumento degli incidenti stradali con il numero di vittime L'incredibile aumento degli incidenti stradali con il numero di vittime L'incredibile aumento degli incidenti stradali con il numero di vittime Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.